La fondazione Mona Lisa Ollus è viva e continua ad operare, ci tiene a precisarlo il patron Piero Iacomoni che pensa soprattutto al destino di Strassicura, la cittadella retina della sicurezza stradale di Montecchio Vesponi chiusa per mancanza di fondi ma che si appresta ad una manutenzione con l'obiettivo di essere pienamente operativa con l'inizio del nuovo anno scolastico a settembre. A questo punto diciamo che siamo in una salita un pochino più facile perché tutte le nostre preoccupazioni che abbiamo avuto per la realizzazione della cittadella della sicurezza stradale sono messe perlomeno in fila abbiamo cercato di rifare una posizione di tutti i nostri impegni perché gli impegni sono onorati e si stanno onorando completamente tutti e noi pensiamo di poter ripartire con questo anno scolastico con l'aiuto di tutte le scuole della provincia. Intanto stiamo facendo dei mercatini, stiamo facendo ancora del recupero del materiale che le aziende più sensibili ci fanno e noi li trasformiamo in denari per rifar partire questa benedetta fondazione. Quindi cittadella, cancelli aperti a Strassicura probabilmente a settembre? Intanto i cancelli ora sono chiusi perché si sta facendo la manutenzione che non ha avuto quest'anno quindi noi da ottobre, da luglio pensiamo di rimettere in funzione ogni cosa e fare tutto come deve essere dal manto che va ripreso, il manto del circuito dei ragazzi e del circuito dei grandi tutte le varie cose che sono da rifare perché alcune si sono un po' deteriorate e qualcuno ci ha messo la mano per deteriorarle ma noi passeremo anche questa e quindi a luglio riparterà la cittadella della sicurezza stradale. Grazie.